Vi voglio far vedere l'ennesima bufala del Movimento 5 Stelle Dobbiamo purtroppo dimostrare perché nel calcio il business ha ucciso il livello sportivo 25 milioni, 10 milioni, il totale fa 60 6, 7, 3, 7 Dove vanno a finire gli altri 15 milioni? 9, 1, 4, 0, 3, 4 Chiaramente Palermo ha interesse che sia retrocesso il Crotone E la domanda diventa come finirà questa partita? E come è finita la partita? Colpo di testa! E c'è il gol del Palermo! E finisce qui! L'Empoli retrocede in Serie B perché il Palermo vince! Caro senatore Indrizzi, dovresti chiedere scusa a centinaia di migliaia di tifosi Del Crotone, del Palermo, dell'Empoli Ancora una volta la realtà dei fatti ha smascherato le vostre bufale